L'attenzione alla fine è sfociata in un pianto di gioia lungo tutto Corso Garibaldi a Palo del Colle. Domenico Delle Fontane, del Rione Rugapiena, vincitore del Palio del Viccio edizione 2014, ha dedicato il successo alla famiglia a chi le è stato vicino. Ci aveva già provato, ce l'ha andato vicinissimo nel giro precedente, poi ce l'ha fatta. Che cosa è stato determinante? Mi ha dato coraggio alla stanchezza e all'aiuto dei miei amici, i consigli e tutto. Ringrazio anche i miei figli, la scuderia e l'associazione Lanzisera. Quanto è bello e importante vincere il Palio del Viccio? Sono dieci anni con questo che partecipo al Palio del Viccio e quest'anno ho preso il Palio del Viccio. È una cosa bellissima, lo auguro a tutti quanti. Quanto è stato importante il cavallo? Il cavallo è la prima cosa, è importante perché il cavallo quando ti dà sicurezza e precisione, tu pensi solo al palone, non pensi più a nessun altro. Abilità e coraggio, prontezza di riflessi si sono alternati per quasi tre ore ai colpi di scena. Primo fra tutti la caduta e il ritiro del vincitore dell'anno scorso, Antonio Amendolara. E poi la pioggia, caduta incessantemente, che però non ha scoraggiato il pubblico. I dodici cavalieri, rievocando una tradizione antichissima, si sono sfidati a colpi di lancia, tentando di forare la vescica del Viccio, il tacchino, simboleggiato da un pallone pieno di acqua. Alla fine la festa con la sfilata dei cavalieri in Piazza Santa Croce e in Mercatini, dove è stato possibile degustare i prodotti tipici. Punto TV, dopo la diretta purtroppo a tratti disturbata dal maltempo, trasmetterà la replica della gara domani alle 20.30 e domenica pomeriggio alle 14.30.